Buongiorno, benvenuti in Sapienza, Sapienza Università di Roma e specificamente benvenuti nello storico teatro Ateneo. Siamo qui per questo quarto incontro dedicato a Leonardo Sciascia, del ciclo Leonardo Sciascia tra letteratura e cinema, quest'oggi dedicato al Consiglio d'Egitto, romanzo del 1963 e film di Emidio Greco del 2002. Saluto tutti coloro che sono presenti e ovviamente saluto in primis gli ospiti che abbiamo qui con noi, la professoressa Alfonsetti, che alcuni di voi ricorderà, era stata anche protagonista del primo di questi incontri, unitamente al collega Masciullo, chiedo scusa un momento di lapsus memorie, che anche lui era presente in occasione del primo incontro. Inizio come al solito ringraziando coloro che hanno reso possibile questo evento, a cominciare dalla Fondazione Sciascia, che come ho ricordato ogni volta ci ha fornito diverse foto originali di Sciascia, effettuate da Nino Catalano. L'associazione Amici di Sciascia, che ha condiviso questo evento. Cine Città Luce, che ci ha concesso i diritti per la proiezione del film e che, ricordo subito, potrete vedere a partire dalla fine di questa conferenza fino alle ore 13 di domani e vi sarà fornito subito dopo il link per accedere alla visione. Saluto anche e ringrazio oltre a tutta la comunità sapienza e al personale del Centro Crea che si è adoperato e si sta in questo momento adoperando per la realizzazione di questo evento. Ringrazio appunto la Adi, nella persona della professoressa Paola Rocchi, che continuamente ci supporta nel rapporto con le scuole. E per quanto riguarda le scuole oggi qui presenti in distanza, saluto docenti e studenti del liceo Socrate, del liceo Giordano Bruno, dell'Istituto Tecnico Industriale Statale Armellini, il liceo Niccolò Machiavelli, tutti di Roma. Ma sono anche presenti, e anche essi va il mio saluto affettuoso, diversi studenti e docenti delle scuole del territorio siciliano, per cui saluto e ringrazio la professoressa Damiano del liceo Sciascia Fermi di Sant'Agata di Militello, il professor Di Giacomo del liceo Empedocle di Agrigento e la professoressa Buscemi dell'Istituto Superiore Manzoni-Giuvara di Caltanissetta, già presente in altre occasioni e anche in questa circostanza ricordo che è l'istituto dove ha studiato Sciascia per diventare maestro. Darò adesso la parola alla professoressa Alfonsetti per introdurci nel romanzo, ma ricordo fin da subito che i nostri relatori, che ringrazio per essere qui, risponderanno alle domande degli studenti dopo le due presentazioni. Allora, questo quarto incontro ha come protagonista questo romanzo straordinario, eccezionale da diversi punti di vista, il Consiglio d'Egitto, che è un romanzo storico, credo che sia l'unica esperienza di questo genere nella scrittura di Sciascia, un romanzo storico che è un genere che ha avuto il suo momento di gloria in epoche passate, soprattutto nell'Ottocento, insomma. Quindi sembra un po' quasi un'operazione retro da parte di Sciascia. Ma in realtà questo romanzo storico è un po' un pretesto per tutta una serie di considerazioni, di metafore, di riferimenti. Credo che la professoressa Alfonsetti ci farà riflettere sul fatto che questo romanzo è anche un interrogativo sulla scrittura, sul modo di interpretare la storiografia, cioè la scrittura della storia, e su altri elementi che veramente questo romanzo ci presenta, direi quasi più interessanti come interrogativi su problemi di carattere estetico, sociale, culturale, filosofico, più significativi della storia stessa, in un certo senso, che è appunto un pretesto. Non so cosa ne pensa la professoressa Alfonsetti, ma lo sentiremo subito perché le passo immediatamente la parola. Grazie Franco, grazie appunto al CREA, Centro Teatro Ateneo. Entro subito in argomento presentando questo romanzo in effetti singolare, però che si lega al primo, soprattutto Sciascia, quindi a anche i racconti sulla Sicilia e anche a quello che era uno degli autori che Sciascia predilegeva, cioè Pirandello, i vecchi e giovani di Pirandello, era anch'esso un romanzo storico, pur se corale, su fatti storici veramente accaduti a fine Ottocento sui fasci siciliani. Quando è uscito si disse che il Consiglio d'Egitto, pubblicato dai Naudi nel 63, fosse l'anti-gattopardo, perché in effetti Tomasi di Lampedusa, aveva appunto il romanzo di Tomasi di Lampedusa e di soli 4-5 anni prima del 58 e per certi aspetti anch'esso un romanzo storico e comunque un romanzo su fatti e avvenimenti accaduti in Sicilia, anzi sul ruolo della Sicilia, se così possiamo dire, nella storia d'Italia dopo l'Unità, dopo il 1871. Più di quello che si possa credere, Sciascia utilizza moltissime fonti per questo romanzo. Non c'è quasi nulla di inventato, eppure tutto è inventato, perché è anche un discorso sul rapporto tra, possiamo dire semplicemente, la storia e la poesia. Il discorso storiografico è la funzione della poesia e della letteratura nella vita degli uomini, nella vita appunto, è anche proprio un interrogarsi come fosse possibile scrivere un romanzo sulla Sicilia, sulla storia, e nello stesso tempo, e quindi forse anche su delle illusioni siciliane, e poi vedremo quali possono essere, e nello stesso tempo confrontarsi con autori prediletti, non solo Pirandello, ma Manzoni, Stendhal. E leggendo che Sciascia amava la storia da ragazzino, e l'eroe da lui preferito era Napoleone, e l'interesse che poi ha avuto sempre per il Settecento, c'è un saggio bellissimo in Cruciverbe, il secolo educatore, dove parla di Biderot come la chiave del secolo, cioè un secolo dove si poteva scherzare, dove tutto sembrava leggero, e nello stesso tempo, invece, l'altra faccia del secolo XVIII era che ancora c'era in fondo, come dire, superstizione, c'erano torture, c'era dispotismo. In qualche modo, appunto, in questa costruzione in cui Sciascia, possiamo dire, veramente quasi esercita una sorta di virtuosismo della scrittura, perché nulla è lasciato al caso. Sì, lui si ispira al diario palermitano del Marchese di Villabianco, ma che era un diario scritto da un aristocratico, e Sciascia poi dedicherà a questa figura, al Villabianca, un saggio, Io Villabianca, dove parlerà proprio di questo diario che sembrava annotare la fine di un'epoca, cioè della rivoluzione, perché dico subito che il romanzo copre alcuni anni della storia siciliana, e cioè si inizia più o meno attorno all'82, 83, quando in Sicilia era stato inviato come vicere siciliano, perché la Sicilia aveva una storia di autonomia e di autonomismo, quindi c'era un vicere anche in Sicilia, ed era il Marchese Domenico Caracciolo, che veniva da Parigi, un riformatore, come storicamente sappiamo essere stato una figura importantissima, e che qui ci viene descritto attraverso l'occhio di un altro protagonista storico, Francesco Paolo di Blasi, un giuriconsulto, uno di famiglia, diciamo, di Patrizia, ma non proprio la madre soprattutto, quindi comunque appartenente a una famiglia di notabili, il quale è un autore di opuscoli soprattutto, che trattano il problema della legislazione, aveva scritto anche una cosa, diciamo anche come nel romanzo, sulla eguaglianza degli uomini in riferimento ai cosiddetti filosof. Allora, dicevo, perché virtuosismo? Perché possiamo dire che questo romanzo è costruito, cioè la trama del romanzo, l'orditura del romanzo, ruota attorno a due trame che si dipanano nel corso del romanzo, costituito da tre parti. La prima è l'epoca, diciamo, Caracciolo, quando c'è Domenico Caracciolo, vice re, e in cui uno dei due protagonisti, l'abbate Vella, anzi quello che sogna di essere abbate, traendo spunto da una particolare situazione, la presenza appunto di un, diciamo, di una figura non ben identificata, insomma, un egiziano che si trovava lì, si trova un codice a San Martino, che in realtà è solo una vita di Maometto, e quando, poiché l'abbate Vella era stata a Malta, sapeva un po' di arabo, gli chiedono di tradurlo con la presenza di questo appunto egiziano davanti, lui immediatamente ha questo gusto di inventare ciò che lì non era scritto e di, in fondo, presentare questo codice come quello che verrà chiamato il Consiglio di Sicilia, dove lui, in fondo, comincia quasi a divertirsi e a, da un lato, falsificare i caratteri del codice intervenendo sui caratteri arabi e nello stesso tempo a inventarsi una storia della, diciamo, dominazione degli arabi in Sicilia. Questa parte è, forse, la più, potremmo dire, divertente, la più leggera del romanzo, dove questo personaggio è presentato come un personaggio che, ecco, amava, diciamo, era il numerista del lotto, cioè, quindi, amava dare numeri per fare giocare all'otto le persone e è presentata all'inizio con molta leggerezza. In fondo, lui non si era mai occupato di nulla, non gli importava tanto del destino degli uomini e dei popoli, non gli importava, diciamo, della, della politica, ma soltanto pensava di potersi arricchire, di avere, appunto, un'abbazia individua in questa possibile falsificazione che viene in fondo incontro al corso della storia e quindi, cioè, alla presenza del vicere Caracciolo, quindi a un corso riformista negli anni Ottanta. Ricordiamo, sono gli anni in cui, come è stato detto da tanti storici, in particolare, per esempio, Giuseppe Galasso, in un libro molto bello, La filosofia in soccorso dei governi, sono gli anni dell'illusione in tutta Europa che veramente il dispotismo potesse essere illuminato e quindi il ruolo toccava ai filosofi di supportare la corona per poter finalmente mettere, diciamo, un freno ai privilegi ecclesiastici e anche ai privilegi dell'aristocrazia, in Sicilia anche quelli baronali. Via via, però, la spinta che muove l'abbate Vella a fare tutto ciò è anche una sorta, dico mi dire, è un potenziale scrittore. Lui dirà, in futuro sarebbe rimasto, anche se si fosse saputa, poi lui la svelerà, lui stesso questa impostura, questa trama che stava costruendo, almeno sarebbe rimasto il romanzo. Quindi vediamo che anche lui, in lui c'è una sorta di vena creativa molto forte e una sorta di leggerezza, una leggerezza che all'inizio è presente anche nel personaggio di Di Blasi che si modella sui personaggi di Diderot, per esempio del romanzo le bijoux indiscrets, i gioielli indiscreti che Di Blasi regala alla donna con cui appunto, diciamo, ha un'aristocratica, con cui ha una relazione, l'è sposata e diciamo le bijoux indiscrets si riferisce per l'appunto agli organi sessuali che appunto se parlassero che cosa potrebbero rivelare delle donne, appunto, soprattutto delle donne aristocratiche che senza tranti problemi in quell'epoca, in un'epoca un po' anche di libertina in senso filosofico, ricordiamoci Casanova, avevano dei rapporti sessuali. Quindi questa prima parte è un po' tutto questo e nello stesso tempo c'è uno sfondo, lo sfondo dove si incontrano vari personaggi che fanno da sfondo, c'è anche l'abbate Meli che è il poeta Meli che non viene descritto in una maniera diciamo da parte di Sciascia c'è quasi mette in evidenza questa poesia che piace di Cicisbei, di Ciprie, di Parrucche, di Amore che piace a tutti ma in fondo non viene incontro a quello che possiamo dire l'idea che ha Sciascia della poesia, una poesia che si fantasia come via via emerge da questo romanzo dove sono chiamati in causa soprattutto Metascasio, Ariosto, Dante, però è una poesia che è accanto diciamo in qualche modo che non potrebbe essere una poesia soltanto leggera. Cioè per Sciascia la poesia in fondo anche se dice nel Settecento fa dire a un personaggio si poteva mentire nella poesia la menzogna a cui pensa Sciascia è il Metastasio e per esempio il sonetto Sogni e favole io fingo di Metastasio notissimo dove appunto Metastasio dice sì ma io piango con questi miei eroi dei melodrammi insieme a loro e mi commuovo. Ecco pianto, commozione, sentimento. Il sentimento qui è importantissimo perché è la molla della poesia in qualche modo e ciò che muove che poi proverà anche la batevella che sarà mosso dal sentimento via via che si accosta sempre più a Francesco Paolo di Blasi il quale è presentato come un letterato diciamo che aveva in fondo fatto studi di giurisprudenza aveva scritto degli opuscoli sulla eguaglianza degli uomini sulla pena di morte era un seguace di Cesare Beccaria e dei filosof che vengono richiamati più volte ma nello stesso tempo appunto e quindi partecipa alle riunioni che si svolgono sulla Marina siamo a Palermo e poi tra un gelato e l'altro si parla di che cosa? Prima delle cosiddette caracciolate cioè come l'aristocrazia vive in maniera ovviamente negativa e non vede l'ora che questo Domenico Caracciolo che aveva addirittura fatto un rogo di tutti i libri della dell'inquisizione del santuffizio di quella che la Batevella a un certo punto intuisce essere la vera impostura cioè l'impostura anche della stessa chiesa via via poi appunto nella prima parte via via finirà così che la Batevella capisce che può costruire con una altra impostura e quindi con la costruzione di un codice completamente nuovo che si chiama il Consiglio di Egitto la storia che mette in crisi tutta l'altra impostura dei diritti baronali nei confronti della Corona e quindi quando si viene a sapere tutto questo tutti sono preoccupati perché diciamo credono che in questo altro codice che ritengono vero ci possa essere possono essere smentiti e quindi vengano a cadere tutti i privilegi di cui i nobili godevano quindi gli antichi feudi eccetera e Bella si accosta a Di Blasi soltanto perché Di Blasi era adotto di costituzionalismo siciliano e quindi vuol saperne di più poi ecco l'incontro fra i due sarà sempre più stretto e si realizzerà nella terza parte la seconda la prima parte si conclude con una sorta di diciamo di festa per tutti i nobili sono contentissimi perché Di Blasi perché Caracciolo sta andando via e la terza la seconda parte è fatta soltanto di che cosa di una lettera la Batterella scrive al re Ferdinando IV di Borbone parlandogli di questi due codici e del fatto che appunto questi codici erano in supporto della corona sono gli anni in cui veramente Ferdinando IV di Borbone è la moglie appunto austriaca che è diciamo favorevole anche a questo corso riformistico quindi scrive loro questa lettera di circa tre pagine raccontando che cosa che appunto tutte le pretese dei nobili tutti i privilegi non sono sono smentiti da questo eccezionale ritrovamento nella terza parte ecco abbiamo che cosa il da un lato prende corpo un'altra trama che è quella che di Blasi proprio sulle ceneri di quello che era accaduto precedentemente cioè del riformismo di da un lato Caracciolo e dall'altro nei dieci anni nove anni intercorrono scusate tra la prima parte e la seconda ci sono dieci anni di interruzione la terza parte si apre direttamente con i funerali quindi un'altra cerimonia una cerimonia chiude la prima parte poi c'è la lettera e un'altra cerimonia questa volta è un corteo funebre per il vicere Tommaso d'Aquino principe di Caramanico che Sciascia non descrive in realtà per come cioè anche qui diciamo Sciascia si allontana forse non so se fosse sufficientemente documentato forse sì lo fa osservare dagli altri in realtà è stata una figura anche lui di grande riformista però arriviamo al momento in cui siamo ormai nel 95 quindi lui muore e qui ecco quando si era conclusa la prima parte e c'era la festa Di Blasi aveva guardato il corpo il viso stanco di Caracciolo che stava andando via e viene detto come se fosse il pensiero di Di Blasi che da quel riformismo poteva nascere una rivoluzione e quanto tenterà di fare Di Blasi nella terza parte dove assistiamo anche qui una costruzione a specchio lui sempre più utilizza la diciamo accademia degli oritei di cui faceva parte storicamente anche il padre dove c'erano tanti letterati che si riunivano per fare proselitismo ma che cosa verrà fuori ecco l'idea che lui volesse addirittura fare una rivoluzione in Sicilia e instaurare una repubblica repubblica un nome che viene appunto diciamo pronunciato da tutti gli aristocratici quando questa trama verrà scoperta attraverso due delazioni fatto accaduto storicamente tutti appunto pronunceranno questo nome come una bestemmia e la cosa interessante di questa seconda parte su cui poi spero di poter ritornare è questa cioè noi abbiamo anche qui una costruzione a specchio nel momento a un certo punto c'è si mette in crisi si mette in forse la veridicità l'autenticità del codice del consiglio d'Egitto c'è uno storico Gregorio che non pensa possa essere vero interpellato un tedesco la battevella più volte riesce a difendersi dalle accuse ma a un certo punto come un attore stanco di questa parte vuole confessare vuole dirlo forse perché vuole diventare un protagonista vuole diventare l'autore del consiglio di Egitto mentre lui confessa a questa diciamo sua finzione a Monsignor Airoldi che invece è disperato dalla confessione abbiamo i due delatori che presi dall'angoscia dell'inferno l'inferno come appunto incombe sempre in vari modi sia l'inferno di Dante ma anche l'inferno come terrore come diciamo arma che i preti hanno nei confronti per incutere paura e va a confessare molto bella che cosa la parte appunto in cui Di Blasi che diventa nella seconda parte quasi un vero protagonista comunque un coprotagonista del romanzo diciamo affronta con un coraggio incredibile questo ci risulta dalle fonti storiche lui non parla cioè viene torturato per giorno intero per più di un mese storicamente ma anche nel romanzo c'è una parte stesissima poi vorrei infatti leggere laddove durante la tortura ciò che pensa Di Blasi e ciò che dice il narratore rispetto alla attualità e dunque l'allusività c'è il narratore che fa il controcanto e dice che in fondo lui che a un certo punto si dice che in fondo c'erano due imposture quella allegra di Bella e la sua era stata tragica perché non soltanto non tanto portava al suo corpo così martoriato con il fuoco con i colpi di corda e il fuoco li ricorda appunto l'inferno di Dante il canto XIX ma soprattutto la sua l'angoscia è nei confronti di chi da lui era stato trascinato in questa idea della possibile rivoluzione come in Francia ricordiamoci che il 94 è il momento più alto diciamo in Francia da un lato del e lo dico cioè della Costituzione democratica ha immessa da quella data da Robespierre il punto massimo di diciamo di coscienza e di rivendicazione dei diritti dell'uomo però tutto questo poi si otteneva in una maniera che appunto attraverso il terrore e quindi era quasi inevitabile che dopo Robespierre appunto che Robespierre sarebbe stato eliminato e la cosa appunto singolare di diciamo di Blasi è in qualche modo da un lato pensa che sì c'è una tragica impostura la sua è stata l'aver creduto in questa rivoluzione che poi invece non era stata non era possibile e nello stesso tempo pensare che forse ecco questa servirà in futuro ma l'ultimo punto che tocco in questa introduzione ci sono tanti altri punti che vorrei poi diciamo mi piacerebbe se speriamo che ci sono delle domande poter appunto poter trattare e che cosa che alla fine lui quando proprio a pochissime ore chiede una penna per scrivere che cosa versi ma come una persona scrive versi prima di morire sì perché la tortura lui riesce a resisterla ripetendosi le ottave di Ariosto ripetendosi le terzine di Dante pensando al suo amato Metastasio e quindi capisce che dalla poesia ecco lui dall'amore per la poesia era gli era venuta la spinta perché senza sentimento non si fa nulla quindi la congiura era nata da ragione e sentimento e si dice dove sono i miei filosofi i miei filosofi però sono rimasti nella storia non sono dentro la rivoluzione e io invece li avrei voluti dentro la rivoluzione ma non c'era nessuno erano tutti morti Voltaire non c'era più e neanche Diderot e quindi Sciascia usa anche gli opuscoli di Di Blasi dove Di Blasi aveva parlato della pena di morte come toccherà nella realtà lui lui verrà decapitato perché lui comunque non viene messo alla forca come gli altri e ecco lui dirà la madre mia madre non ha capito niente perché alla fine fa venire qui il servitore il livrea con un bacile per la mia testa che è la testa in fondo di una persona lui che aveva scritto sull'uguaglianza che invece sanciva l'ineguaglianza degli uomini perché gli altri sarebbero stati messi alla forca e tutto questo era già stato scritto da Di Blasi dicendo che appunto contro la pena di morte e soprattutto contro questa scena grottesca che il personaggio di Sciascia affronta con un'estrema nobiltà e soprattutto con questo appunto inno alla poesia si parla tanto diciamo di quello che è l'importanza dei filosofi il discorso sulla storia è vero questo è molto presente ma è altrettanto è paritariamente presente l'importanza della letteratura e dei poeti diciamo e quindi anzi che è la spinta alla creatività alla poesia alla letteratura che tutto sommato muove le due imposture muove Vella e muove Di Blasi e Vella che si commuoverà e che parteciperà alla diciamo questa fine come avendo dopo la confessione quasi appunto tocca improvvisamente quello che in diciamo in Di Blasi vede cioè l'atrocità della tortura che appunto riguarda anche diciamo ci riguarda ancora quindi per certi aspetti anche questo è uno dei romanzi più attuali di Sciascia grazie grazie Beatrice per questa iniziale introduzione alla complessità del romanzo vedremo senz'altro se possiamo tornare su alcuni degli aspetti importanti singolari avrete sentito ricorrere nelle parole della collega più volte la parola impostura è forse una delle parole chiave di questo romanzo che si legge a ogni piesso spinto e che come capiremo tra un momento i personaggi del film ripetono a ogni momento quindi è proprio una sorta di costruzione letteraria intorno all'inganno volevo anche aggiungere una cosa che è emersa nella chiarezza dell'esposizione della professoressa Alfonsetti che ovviamente è particolarmente a suo agio con un romanzo come questo perché è perfettamente coevo ai suoi studi sul settecento italiano in generale ma diciamo anche napoletano in particolare per cui avrà come tutti noi che conosciamo quei personaggi ritrovato ed è anche questa un'esperienza magnifica della letteratura che si fonda su personaggi storici vederli vivere sotto la penna di un illustre scrittore quelle persone che conosciamo attraverso le fonti attraverso le narrazioni attraverso i documenti dell'epoca ecco fonti documenti che hanno anche aiutato il regista del film il consiglio d'Egitto a creare un grande affresco del settecento siciliano e quindi chiedo a Piero Masciullo che insegna la disciplina del cinema e della televisione qui in Sapienza di parlarci di questo film così vicino ma anche così lontano in qualche modo dallo spirito del romanzo di Sciascia sì grazie allora ringrazio anch'io naturalmente gli organizzatori dell'evento e soprattutto appunto il professor Piperno e la professoressa Alfonsetti per ritornare a parlare appunto dopo due mesi se non erro di nuovo della di quanto Sciascia abbia ispirato appunto forse due generazioni ormai se non tre di sceneggiatori e di registi nella storia del cinema italiano la prosa lucida nitida è sempre attuale sempre straordinariamente contemporanea di Sciascia è come se continuasse naturalmente a ispirare costantemente direttamente o anche indirettamente tanti sceneggiatori e tanti registi appunto del cinema italiano ed in effetti poi nei fatti i libri di Sciascia sono stati adattati appunto anche in diverse forme cinematografiche cioè dal cinema politico degli anni 60 e 70 declinato appunto da Petri e Rosi in maniera in maniera molto diversa al cinema altrettanto politico civile ma naturalmente innervato anche da venature molto cinefile molto spettacolari di Damiano Damiani per esempio con Il Giano della Civetta sino ad arrivare naturalmente appunto agli anni 90 con due registi come Gianni Amerio appunto di cui si è parlato la scorsa volta se non erro appunto Porta Aperte e Emilio Greco che ha appunto adattato due romanzi di Sciascia una storia semplice appunto il Consiglio d'Egitto che si rifanno naturalmente ad una stagione di cinema che è più mutuata diciamo dalla grande autorialità europea quindi naturalmente dal rispecchiarsi anche diretto lo dicevamo prima quanto il romanzo di Sciascia sia naturalmente all'interno del film di Greco alcune volte è letteralmente declamato appunto soprattutto dalla voce fuoricampo di Giannini Emilio Greco in effetti è un regista pugliese formatosi nella Torino degli anni 60 quindi in una temperie culturale che naturalmente ha assorbito molto nelle stagioni delle vague europee cinematografiche di stagioni cinematografiche dove naturalmente l'autoriflessività del cinema e soprattutto l'autoriflessività sui linguaggi del cinema e della letteratura diventava in qualche modo naturalmente l'interfaccia diretta per parlare del mondo e questo naturalmente è molto evidente dai suoi film sin dall'esordio con l'invenzione di Morel tratto appunto dal romanzo dall'omonimo romanzo di Casares che evidentemente in linea di massima naturalmente se c'è una linea che attraversa tutta la filmografia di Emilio Greco è proprio questa questa autoriflessività del cinema che adattando spessissimo degli scrittori in qualche modo parla anche di se stesso parla anche di come il cinema affronta appunto la letteratura e di come appunto l'arte si confronta con il mondo circostante in quel periodo in quel tempo il confine tra finzione e verità fondamentalmente appunto in accezione anche spesso esistenzialista è stato il filo conduttore di molti film di Emilio Greco rifacendosi stilisticamente soprattutto al cinema didattico dell'ultimo Rossellini in particolare qui nel Consiglio d'Egitto la matrice rosseliniana appunto del cinema di Emilio Greco si sente si vede particolarmente e quindi naturalmente rifugendo dal concetto di evasione di identificazione del cinema classico facendone naturalmente invece anche registicamente anche stilisticamente ne parleremo ne parleremo appunto tra un po' interrogare lo spettatore direttamente in fondo naturalmente le declinazioni letterali del romanzo non sono altro che un'interrogazione diretta nei confronti dello spettatore che probabilmente ha letto il romanzo stesso quindi operando una riflessione critica evidente appunto sul terzo di partenza però volevo fare una piccolissima parentesi perché appunto i romanzi di Sciascia hanno ispirato appunto Emilio Greco anche in un precedente adattamento che è un film del 1991 appena due anni dopo tra l'altro una storia semplice viene pubblicato nel 1989 e l'adattamento del 1991 tra l'altro sarà l'ultimo romanzo di Sciascia naturalmente e anche l'ultima interpretazione italiana di Gian Maria Volontè che è forse il corpo iconico che cinematograficamente più in qualche modo si interfaccia alla figura di Sciascia e non è un caso naturalmente che nel film di Emilio Greco Volontè interprete il professor Franzò che è probabilmente uno degli alter ego più espliciti all'interno dei romanzi di Sciascia e è particolarmente interessante perché in questo film appunto una storia semplice di solito sia i due film di Emilio Greco tratti da Sciascia sono molto fedeli al romanzo sin quasi naturalmente ad arrivare appunto alla declinazione diretta della la declamazione diretta di alcuni di alcuni passi in questo caso il film si apre e una storia semplice si apre con una con una piccolissima sequenza che non è presente nel romanzo di Sciascia che è l'incontro tra appunto il professor Franzò che in realtà poi nel romanzo è rappresentato molto dopo e questo rappresentante di medicinali del nord appunto dove il professor Franzò appunto dice non si vede non si riesce a vedere e lui dice cosa? cosa non si riesce a vedere? Non si riesce a vedere la Sicilia sono in un traghetto non si riesce a vedere la Sicilia forse è sparita forse non si vede più ma ancor più interessante ovviamente una quasi una dichiarazione di intenti su quello che poi sarà naturalmente la riflessione che il romanzo farà successivamente ma ancor più interessante è una frase che appunto viene detta dal professor Franzò interpretata da Gian Maria Volontè ossia lei muore dalla voglia di chiedermelo dice sta morendo dalla voglia di chiedermelo e lui dice cosa? cosa? come si fa ad essere siciliani? ecco questa battuta come si fa ad essere siciliani è tratta in realtà dal Consiglio d'Egitto è tratta dal Consiglio d'Egitto da Caracciolo dall'addio di Caracciolo al questo è molto interessante su come naturalmente già probabilmente in linea di massima naturalmente su come Sciascia riesca naturalmente a informare quasi trasversalmente i suoi adattamenti con una sorta di adattamento espanso costantemente della bibliografia di Sciascia all'interno dei singoli film ma su quanto già probabilmente non lo so se Emilio Greco aveva già intenzione poi di adattare anche il Consiglio d'Egitto ma su come già questi romanzi dialogassero già naturalmente nel 1991 in occasione del primo adattamento appunto di Greco Ironia della Sorte naturalmente tragica Ironia della Sorte sarebbe stato appunto anche l'ultimo film italiano di Giammaria Volontè che poi appunto interpretò un paio di altri film all'estero e due anni dopo appunto morì è molto interessante questo rimando questa interfaccia costante appunto tra una storia semplice e il Consiglio d'Egitto perché questo si vede si sente anche appunto nell'adattamento del 2002 molti anni dopo siamo appunto agli albori del nuovo millennio un'epoca dove naturalmente il resto tutta la nostra epoca dove il rapporto naturalmente tra finzione in realtà e i medium che mediano questo rapporto naturalmente all'ordine del giorno politicamente e soprattutto naturalmente dal punto di vista filosofico sono le domande che naturalmente informano molta teoria dei medi attuali e sicuramente il come si diceva Pocanzi appunto come la professoressa ha detto Pocanzi fondamentalmente i due personaggi principali del Consiglio d'Egitto si interfacciano se sono due figure fortemente speculari perché entrambi anelano di essere dei letterati vogliono essere dei letterati o perlomeno vogliono essere ricordati come letterati nella propria contingenza storica naturalmente avranno altre linee d'azione ma sicuramente vogliono essere ricordati come due letterati e quindi naturalmente la frase appunto del rimando tra questi due film in qualche modo naturalmente ci fa subito venire in mente appunto la figura di Franzot la figura di Franzot che è probabilmente appunto un alter ego evidente di Sciascia e non è un caso appunto che venga interpretato appunto in quel film da Gian Maria Volontè quindi la parabola della Batevella appunto appena 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 ricordata in qualche modo naturalmente è proprio il desiderio della Batevella è proprio quello di testimoniare in qualche modo una verità attraverso una finzione attraverso un inganno e sarà proprio questo naturalmente che coglierà Di Blasi e perché questa verità venga testimoniata l'inganno deve essere svelato Di Blasi stesso dirà naturalmente è proprio questo svelamento dell'inganno che testimonia una verità profonda della Sicilia attuale che testimonia una verità profonda naturalmente del nostro contesto sociale e questa finzione dice Di Blasi appunto testimonia una verità inequivocabile sullo stato delle cose in Sicilia e si attua quindi una sorta di saldatura ideale anche nel film naturalmente anzi forse nel film un po' più sfumato perché il personaggio di Di Blasi è quasi costantemente in fuoricampo fondamentalmente e ci si concentra moltissimo sulla batevella ma c'è questa saldatura ideale tra queste due in ultima istanza tra queste due utopie che sono quella naturalmente di riscrivere la storia partendo dalla batevella naturalmente da una sorta di profonda sfiducia nella storia ufficiale e scrivere la storia attraverso la letteratura appunto e dall'altra naturalmente l'utopia rivoluzionaria che andava incontro a fallimento ma che come poc'anzi appunto la professoressa ha detto in qualche modo poteva informare generazioni future e Greco nel film appunto opera proprio in questo confine tra l'utopia di Di Blasi tenuta per lo più in fuoricampo come abbiamo appena detto e quella di Vella che vuole da un lato naturalmente elevare la sua condizione economica sociale culturale dall'altra naturalmente probabilmente inseguire i suoi desideri più profondi che erano quelli appunto di essere un letterato di fare letteratura due personaggi sconfitti dalla storia fondamentalmente appunto eppure capaci di originare molte storie questa è una frase di Emilio Greco che dice proprio questo nell'idea di base appunto dell'adattamento del film Greco dice Vella e Di Blasi sono due sconfitti ma sono gli unici personaggi che sono nel mio film tutto il resto non c'è gli altri personaggi non sono sono statici sono come in qualche modo naturalmente pietrificati dalla storia stessa ne parlavamo prima come il film indugi particolarmente sulla staticità dei personaggi e molto spesso anche registicamente e stilisticamente Vella e Di Blasi sono gli unici due personaggi che danno movimento alla macchina da presa che consentono alla macchina da presa di muoversi negli spazi tutti gli altri personaggi naturalmente sono inquadrati staticamente e tendono naturalmente a essere percepiti dallo spettatore anche stilisticamente come impossibilitati a fornire movimento identificazione con lo spettatore la regia quindi configura queste riflessioni a più livelli soprattutto dal punto di vista prettamente iconografico lo dicevamo prima per le evidenti naturalmente scelte fotografiche che in qualche modo si rifanno direttamente o indirettamente appunto alla pittura rinascimentale in particolare l'inquadratura finale della passione di Di Blasi è mutuata evidentemente appunto dal Cristo morto di Mantegna che è poi una grossa naturalmente matrice iconografica anche pasoliniana il riferimento è oltre che naturalmente al Cristo morto di Mantegna anche naturalmente a Mamma Roma di Pasolini e in generale all'iconografia naturalmente pasoliniana della passione ma c'è anche un'altra precedente inscrizione iconografica molto meno evidente ma probabilmente pensata che è nel momento in cui il film indugia particolarmente su Vella nella vasca da bagno che in qualche modo potrebbe sembrare un'inquadratura che coglie nella stessa posizione appunto della morte di Marat nel dipinto di David e questo è molto interessante perché c'è uno slittamento iconografico tra il rivoluzionario che viene inquadrato appunto come la passione di Cristo e il letterato diciamo così abate che viene inquadrato appunto come uno dei dipinti più iconici naturalmente della rivoluzione francese e questo è molto interessante probabilmente voluto probabilmente consapevole ma che fa dialogare a più livelli la figura appunto di Vella e la figura di Di Blasi anche se poi come abbiamo appena sentito nel romanzo si incontrano molto di più nel film in realtà sono rarissime forse quasi quasi mai si incontrano direttamente se non nel finale però dialogano stilisticamente dialogano appunto con iscrizioni iconografiche dialogano appunto perché sono gli unici due personaggi a dare movimento alla macchina da presa quindi c'è un dialogo più mediato dal cinema dagli statuti del cinema che sono la fotografia l'inquadratura appunto la scala dei campi e dei piani del resto poi alla fine uno dei temi sciasciani principali per eccellenza è proprio quello di preservare il candore in qualche modo dei principi etici all'interno naturalmente di dinamiche di potere che naturalmente dei risvolti ambigui del potere più volte naturalmente da sciascia analizzati e in questo torniamo naturalmente a una storia semplice alla figura del brigadiere che in qualche modo unica figura quasi per una sorta di desiderio intimo e forse anche anzi senza forse anche per una sorta di lotta di classe visto che stavamo parlando di quello anche per il consiglio d'Egitto nei confronti di altri personaggi del romanzo e del film appunto vuole in qualche modo inseguire la verità quando tutti gli altri personaggi intorno naturalmente lo sconsigliano a farlo il film il consiglio d'Egitto amplifica proprio questo rapporto molto molto evidente tra il razionalismo dello sguardo che ha anche una matrice registica rosselliniana il film costantemente rifiuta appunto l'identificazione diretta con lo spettatore non ci sono soggettive non ci sono appunto non ci sono campi contro campi tra i personaggi ci sono inquadrature medie in campi medie in campi lunghi che in qualche modo descrivono cosa sta accadendo descrivendo essenzialmente cosa sta accadendo si rinuncia a una forte identificazione spettatoriale ma si invita lo spettatore a pensare si invita in qualche modo lo spettatore a renderlo attivo di una mediazione che passa attraverso il romanzo la voce fuori campo di uno dei più famosi attori italiani che non vediamo mai in volto appunto e che però riconosciamo e che in qualche modo ci estranea dall'identificazione diretta con i personaggi e ci impone naturalmente una 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 riflessione critica proprio come sta facendo appunto il regista nei confronti del romanzo e nei confronti appunto dell'attualità anche del romanzo e del film ricordiamo che il film è nel 2002 agli albori del nuovo millennio all'interno di un contesto politico e culturale che naturalmente incominciava seriamente a porsi i problemi sui nuovi media e su quanto naturalmente il confine tra realtà e affinzione si faceva sempre più sfumato e quindi naturalmente il quanto il cinema si esprime attraverso le immagini e su quanto le immagini iniziassero naturalmente a perdere i loro referenti reali la pellicola la possibilità in qualche modo di avere dei referenti reali e su quanto naturalmente questa mancanza di referenza delle immagini provocasse nuove nuove riflessioni critiche sul confine tra realtà e finzione e in fondo il Consiglio d'Egitto parla essenzialmente di quello di come arrivare alla realtà attraverso una mediazione estetica che passi anche dalla finzione anzi che passi soprattutto quasi solo dalla finzione nel caso appunto della batevella lo stile registico quindi di Emilio Greco il discorso sciasciano sulla metafisica il discorso diciamo che attraversa quasi tutti appunto i romanzi di Sciascia sulla metafisica del potere e sulla Sicilia che lui appunto definiva una grande metafora se non altro appunto dell'Italia viene nel film di Greco riconfigurato con uno stile filmico appunto di rigorosissima strazione tendente appunto alla staticità tendente naturalmente a far comprendere allo spettatore a far chiedersi allo spettatore il perché di questa staticità e a farlo avvertire invece questa sorta di rari movimenti forti scossoni della macchina da presa in particolare in un'ultima bellissima scena l'unica se non erro appunto dell'incontro di sguardi appunto tra Vella e di Blasi quando abbiamo un fortissimo scossone emotivo appunto di Vella che non avevamo mai visto appunto in questo caso il regno sentimentale il regno delle passioni appunto interviene a mutare letteralmente la storia a cambiare la storia questa dialettica in quella scena naturalmente viene viene esplicitata diciamo così ecco è un dialogo quello tra Vella e di Blasi che nel film si fa più distante mediato dal cinema più che naturalmente dalla parola e si opera in maniera molto differente del resto ne parlavamo prima appunto in questo adattamento rispetto al barocchismo scenografico di Elio Petri oppure naturalmente al gusto cinefilo appunto anche del cast internazionale e del grande cinema hollywoodiano unito naturalmente al cinema civile italiano che è di Damiano Damiani qui naturalmente siamo in un'altra in un'altra epoca anche appunto non è un caso che dei film di cui abbiamo parlato probabilmente stilisticamente questo si avvicina di più a Gianni Amedio e a porte aperte appunto sono due registi del resto greco e a meglio che in qualche modo si rifanno direttamente appunto al grande cinema d'autore europeo e in qualche modo naturalmente mediano appunto rimediano e soprattutto appunto in questo caso il Consiglio d'Egitto all'interno naturalmente di un linguaggio codificato che viene costantemente scartato naturalmente da inquadrature inusuali oppure da piccole scelte inusuali ne parlavamo prima il film è sostanzialmente almeno per quello che prende molto molto fedele al romanzo tranne pochissime cose abbiamo visto quanto naturalmente la piccola il piccolo tradimento diciamo così rispetto al romanzo una storia semplice fosse così significante per quel film in questo caso c'è un'altra piccola piccola scelta che Emidio Greco fa volontariamente appunto che è quella di far intervenire la contessa alla fine durante la l'esecuzione diciamo così di Di Blasi non c'è nel romanzo ed effettivamente una virgola esplicitamente melodrammatica che sottolinea il regno passionale che sottolinea naturalmente quest'amore che noi abbiamo visto nel film rare volte se non una sola ma che in qualche modo probabilmente ha attraversato il tempo ha attraversato tutto il tempo appunto diegetico del film stesso tanto è tale che la contessa in qualche modo mette in pericolo probabilmente a che se stessa per poter vedere l'ultima volta appunto di Blasi e questa soluzione di sceneggiatura quasi esplicitamente melodrammatica in qualche modo che dialoga con lo spettatore facendo vedere in fuoricampo quasi un film romantico che non abbiamo mai visto in campo sono tutte questioni sono tutte scelte registiche di sceneggiatura che fanno dialogare il film appunto tra il suo razionalismo espressivo molto molto evidente che però naturalmente viene costantemente scartato dal regno passionale da un lato e soprattutto naturalmente dalle scelte dei due protagonisti che noi nel film vediamo spesso fuoricampo che noi spesso vediamo le loro scelte quando ormai sono già compiute quando ormai naturalmente le hanno già maturate e che sono proprio mediate appunto dallo stile filmico sono mediate appunto dalla regia come diceva appunto come si diceva la scorsa volta come diceva Monreale nel precedente appuntamento su Porta Aperte appunto è un film quello di Amelio che si apre agli spazi un film che naturalmente ricerca l'ambiguità del tempo attraverso l'apertura agli spazi ecco anche naturalmente qui colpisce la voglia rosselliniana appunto di aderire quanto è più possibile ad ambienti riconoscibili di mutare diciamo così sia gli ambienti reali che il paesaggio siciliano quanto meno possibile proprio per far sì che naturalmente ci siano certamente scenografie settecentesche ma che in qualche modo lo spettatore possa spesso avere la sensazione che quella Sicilia inquadrata possa essere anche la Sicilia contemporanea la Sicilia in quel caso del 2002 ed è del resto naturalmente uno dei temi principali di Sciascia quello di parlare costantemente ai suoi contemporanei alludendo a epoche passate naturalmente essere costantemente contemporaneo naturalmente mediando attraverso epoche mediando il suo ragionamento attraverso epoche passate ecco che la riflessione sul potere e la conoscenza che il romanzo naturalmente fa in maniera lucidissima e sulla strumentale ricostruzione appunto del passato attraverso i media si fa straordinariamente contemporaneo si fa straordinariamente contemporaneo anche nel nuovo secolo anzi si fa straordinariamente contemporaneo soprattutto nel nostro nuovo secolo appunto quindi pur non formando non forzando nessuna interpretazione appunto politica nel senso di un universale appunto e sempre contemporanea riflessione questo film forza molto di meno appunto le riflessioni sul contemporaneo rispetto a quanto per esempio non sia stato fatto con todo modo dove naturalmente e volutamente consapevolmente Elio Petri sottolineava quelli che erano i link le interfacce con la propria epoca con il proprio naturalmente e con il contesto politico della fine degli anni 70 qui è tutto molto più sfumato ma naturalmente viene reso contemporaneo anche perché l'epoca storica italiana dell'inizio degli anni 2000 e probabilmente anche la storia del cinema dell'inizio degli anni 2000 era molto diversa rispetto al cinema politico appunto degli anni 70 quindi la disillusione il razionalismo disilluso diciamo così di sciascia soprattutto verso il potere verso la storiografia ufficiale appunto porta sia nel romanzo che nel film i personaggi verso una fiduciosa credenza nella letteratura i due personaggi vogliono essere in qualche modo ricordati come tali la batevella vuole essere ricordato come un grande costruttore di storie in fondo come un grande costruttore di trame che assorbono la storia testimoniano la storia nella finzione e l'utopia rivoluzionaria naturalmente di di blasi è l'unica che riesce a dare movimento alla storia anche se sconfitta riesce a dare movimento alla storia e riesce a dare movimento appunto al film come una sorta di giallo sciasciano dove non si danno tutti naturalmente gli elementi per decodificarlo per risolverlo ma è proprio quello il punto appunto il cinema concludo dicendo che il cinema ha sempre sposato con fiduciosa credenza appunto la prosa di sciascia con fiduciosa quasi confiduciosa aderenza appunto la prosa di sciascia e forse non è non è non è non è un caso perché in fondo il discorso etico ed estetico su questa dialettica delle tracce testimoniali mediate attraverso la finzione della letteratura è un discorso profondamente cinematografico e sciascia riesce attraverso la sua la sua prosa appunto a creare immagini mentali per citare Calvino appunto straordinarie che di 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 rimando è è solo un serbatoio straordinario per sceneggiatori e registi e non è un caso che molti adattamenti da sciascia siano così fedeli e non accade spesso nella storia del cinema che riusciti o meno gli adattamenti siano così fedeli ai romanzi di partenza in sciascia spesso accade e accade perché già la prosa sciasciana è capace di fornire immagini vivide a chi la legge chiudo qui grazie 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 molte al professor Masciullo per queste indicazioni appunto sul film sulla film anche lì sulla produzione dei film relativamente a sciascia non solo consiglio d'Egitto mi colpiscono le ultime parole il rapporto dei film con la prosa sciasciana la mia impressione di spettatore per esempio di un film come Consiglio d'Egitto è quella di un film molto parlato in cui appunto l'elemento parola quasi prevarica alcuni altri dei lemmi della scrittura cinematografica all'azione il movimento l'immagine eccetera la parola si diceva prima di un ambiente quasi accademico in cui si discute in cui tutti vogliono apparire appunto dei letterati e questo il film lo restituisce magnificamente e c'è un altro aspetto che probabilmente lo consideriamo una sorta di parentesi ma mi piace qui di menzionarlo che mi ha colpito vedendo il film e riguardando il romanzo adesso perché a suo tempo non ci feci caso la figura del pretonzolo che si associa a Vella nella falsificazione si chiama Camilleri si chiama Camilleri e assieme a Vella si danno da fare per inventare una lingua che non esiste quello che loro mi pare chiamano il Mauro Siculo o qualcosa del genere e oltre ai caratteri ma anche proprio la lingua vera e propria allora Camilleri ci porta ad un altro Camilleri a una suggestione e pensando al Consiglio d'Egitto per esempio ho pensato ad altri romanzi storici di finzione storica come per esempio Il re dirigente di Camilleri quello voglio dire Il re dirigente cioè io non so affatto anche questo si diceva prima nel 1963 chi fosse Camilleri per Sciascia non ne ho proprio assolutamente idea se questa citazione questo nome che gli è sfuggito dalla penna abbia un'origine particolare so però che Camilleri più volte si è rifatto a Sciascia e al Consiglio d'Egitto come un punto di partenza per la sua attività letteraria che è invenzione ma anche invenzione linguistica perché come Vella inventa una lingua anche Camilleri inventa una lingua Beatrice cosa puoi commentare su questo? Allora volevo intanto diciamo nel romanzo di Sciascia proprio solo così a passant si fa riferimento a delle come dire rivolte che ci sono state tentate in Sicilia tra cui quella notissima del 1649 che tutti conoscono come quella di Masaniello a Napoli ma c'è stata anche in Sicilia poi ce n'è stata un'altra precedente e il re di Girgento di Camilleri tratta puro per l'appunto di tutto questo quindi entrambi guardano a Pirandello entrambi hanno questo diciamo continuo dialogo e nei vecchi e giovani si parla per l'appunto del tentativo rivoluzionario fatto da Lando Laurentano il principe con i fascici siciliani di far sollevare quindi di diciamo mettersi alla guida dei contadini delle popolazioni eccetera eccetera in una rivolta che poi ecco non può diciamo che finisce nel sangue peraltro drammaticamente con lo stato d'assedio in Sicilia eccetera quindi sicuramente tutto questo c'è ma c'è anche una riflessione sulla recente realtà siciliana secondo me Shash e questo anche nel romanzo Il Consiglio d'Egitto ma anche in quello che può essere in Camilleri perché quando parlavo di tradizione autonomistica siciliana è una tradizione che non è che verrà fuori soltanto con Garibaldi quindi quindi già pensiamo alla spedizione di mille di Garibaldi cosiddetti picciotti siciliani che aiutano ma poi pensiamo anche alla nascita della democrazia cristiana attraverso Dosturzo il partito popolare cioè Shash nella prosa Caltagirone narra come gli è nata l'idea che fa parte di Cruciverba narra di come gli sia nata l'idea del Consiglio d'Egitto lui voleva scrivere un romanzo su una rivolta anti-Giacobbina in Sicilia del 99 quando è stato il cosiddetto 99 quando il re si trovava era scappato da Napoli perché da Napoli era stata istituita una repubblica il re Ferdinando IV si rifugia in Sicilia dove prepara attraverso il cardinale Ruffo di Calabria la controffensiva come facendo liberando tutti appunto dalle varie carceri tutti i delinquenti briganti eccetera e i cosiddetti sanfedisti partono dalla Sicilia per arrivare a Napoli dove ci sarà lo scontro furibondo con appunto proprio con quelli che sono cioè lo scontro con il governo rivoluzionario moriranno tantissimi della Repubblica Giacobbina ma tutti i cosiddetti lazzari saranno tutti dalla parte del cardinale Ruffo così insomma quindi in diciamo questa Sciascia quindi vuole partire vedendo che cosa accade come era accaduto a Napoli in particolare anche quando entrano i francesi c'erano stati degli scontri corpo a corpo con i cosiddetti lazzari e le campagne i cinque mesi della Repubblica Napoletana che non tocca la Sicilia era stata continuamente alle prese con le rivolte dei contadini contro il governo provvisorio della Repubblica allora Sciascia voleva stava cercando proprio nel diario di Villa Bianca e voleva raccontare quella storia perché perché probabilmente anche qui c'era la suggestione anche di un altro appunto dei fatti di Bronte quindi della novella di Verga quindi che cosa insomma appunto queste rivolte dei contadini che poi scoppiano nella Ferocia ma anche partire dalle reali condizioni di queste appunto di questa della situazione diciamo o anche economica di arretratezza della Sicilia non è caso lui in Caltagirone dice io appunto volevo trovare posso anche leggerlo perché ce l'ho qui volevo dare a questi fatti quindi alla rivolta antigiacobbina un carattere di allusività al presente ma se noi pensiamo a tre personaggi che vi dico le date in cui sono nate Sturzo 1871 Scelba e Milazzo sono nel 1901 tre che cos'è lì l'unità d'Italia e là è l'età giolittiana quindi l'industrializzazione che ecco diciamo appunto è la fase è finita il governo Crispi è la fase appunto di espansione di Giolitti e l'età giolittiana subito dopo il 1901 dall'assistinio appunto del re Umberto che cosa di questa appunto Sicilia che viene lasciata ai margini pur avendo uomini siciliani i quali in qualche misura faranno i patti è una lettura che in qualche misura Sciascia sposa della realtà siciliana ma soprattutto è interessante notare che cosa quando lui fa questi tre nomi dice qui vi ho detto tutto perché ecco il Partito Popolare quindi nasce in Sicilia insomma c'è Sturzo e poi c'è i due suoi suoi guaci che sono Scelba e Milazzo i quali soprattutto Milazzo via via nel 43 parteciperà anche delle riunioni clandestine per l'autonomismo siciliano e tenterà più volte di fondare anche cioè prima entra nella democrazia cristiana poi esce fuori riesce a essere due volte presidente della regione Sicilia e sto parlando degli anni 58 57 58 59 quindi avvicinissime al Consiglio di Egitto e che poi un governo che era fatto potremmo dire di unità sto scherzando nazionale ma da tutti i partiti comunisti fascisti per l'autonomia della Sicilia il quale viene bloccato perché la democrazia cristiana non voleva assolutamente tutto questo quindi più volte viene bloccato fino poi pare ad essere accusato di corruzione ingiustamente perché in realtà diciamo per assolutamente riuscire a eliminarlo dalla scena politica che su cosa può riflettere Sciascia può riflettere su questo tentativo di Blasi pensa a un movimento autonomistico della Sicilia per fondare una repubblica siciliana Sciascia ci racconta così la storia e quando gli chiedono chi è Ranz è un giacobino piemontese che organizza a sua volta a Torino nel 94 la congiura ma di Blasi dice io non lo conosco ora gli storici successivi Vaccarino Gianrizzo hanno messo in evidenza quasi sicuramente che cosa il legame che c'era tra tutti questi rivoluzionari che a loro volta venivano da legami massonici perché anche Francesco D'Aquino il vicerai di cui non si parla era il gran maestro della loggia La Vittoria di Napoli dove c'era anche Alfieri quindi insomma tutto uno scenario che si apre interessantissimo ma Sciascia o lo conosce poco o lo taglia non saprei questo su questo non saprei dire certamente lui come dire punta l'attenzione è ancora molto legata alla realtà siciliana in qualche misura e soprattutto e solo invece nella parte che riguarda la tortura per questo questo passo se poi magari più avanti lo leggo lì lui amplia lo sguardo e dice che in fondo dopo questa utopia che non è solo l'utopia della Repubblica di Di Blasi ma l'utopia dell'illuminismo l'utopia di Voltaire l'utopia di Rousseau eccetera ci sarebbero state altre torture e il passo chiaramente allude soprattutto alla persecuzione contro dei popoli quindi al problema alla questione della Shoah alla Germania alle stesse Italia lì durante la tortura c'è un riferimento chiaro a tutto ciò che sarebbe continuato ad accadere forse pensando anche allo stalinismo ma sicuramente anche a tutta la persecuzione degli ebrei senti a mio aggancio le tue penultime parole perché ti leggo una domanda che viene dal liceo Shasha Fermi che riguarda appunto l'avvocato Di Blasi e dice quale immagine di intellettuale propone l'autore attraverso il personaggio dell'avvocato Di Blasi quindi che tipo di intellettuale allora con una parola potremmo dire un filosof e il filosof è si intende nella seconda metà del settecento coloro che volevano portare la luce un esponente dell'illuminismo quindi le lumiere coloro che volevano combattere tutta una serie di privilegi ma anche di superstizioni il personaggio è diciamo possiamo dire che Shasha costruisce e da un lato lo costruisce attraverso gli scritti dello stesso Di Blasi per esempio io qui ne ho alcuni che sono stati diciamo recentemente un po' di anni fa per esempio la dissertazione sopra l'egualità l'eseguaglianza degli uomini riguarda la loro felicità cioè il 700 ha questa grande utopia di pensare che la felicità degli uomini si potesse intanto trovare nella felicità pubblica e fino agli anni 80 lo stesso Di Blasi che è dalla parte di Caraccelo quindi del vice re Caraccelo pensa che si possa raggiungere questa condizione in fondo di felicità di uguaglianza degli uomini attraverso un'azione politica riformatrice alla fine usa proprio per la morte di Di Blasi lo scritto contro la tortura quindi un personaggio il filosofe che si intende non il filosofo sistematico necessariamente insomma alla Cartesio ma il filosofo appunto che in qualche modo vuole un cambiamento della società riflettendo ma con una cultura che è ampia che non è strettamente specialistica come era nell'ambito del Settecento certo il personaggio secondo me anche per l'attore del romanzo è più significativo rispetto al personaggio del film ma anche perché nel film c'è Silvio Orlando che è straordinario quindi diciamo ecco un personaggio di questo tipo un filosofo in qualche modo che ha anche però una sua appunto come dicevo prima una leggerezza che richiama Diderot e che pensa per certi aspetti che la cultura il suo latino dice a un certo punto quando ci pensa quando vanno a buttare giù tutti i libri a casa sua dove ne ha tantissimi lui c'è la stessa l'ensiclopedia che crolla e libri in cui ha consegnato tutto se stesso però è anche un personaggio che ama vivere che frequenta le conversazioni le accademie letterarie come era nel settecento grazie giro un'altra domanda che proviene ancora una volta dalla Sicilia al liceo Empedocle di Agrigento e dice nel caso dei romanzi di Sciascia quanto è stata prediletta dal cinema la valenza di denuncia sociale rispetto alla celebrazione del loro valore letterario C'è stato un buon equilibrio in questo probabilmente però come si diceva appena ora naturalmente contano molto anche le epoche appunto degli adattamenti stessi è inevitabile che naturalmente gli adattamenti degli anni settanta fossero fortemente informati anche naturalmente dalla valenza politica e anzi molto spesso naturalmente se ne sono anche forzate le interpretazioni naturalmente probabilmente interpretazioni esatte dei testi di Sciascia però sicuramente se ne sono molto esplicitate i riferimenti diciamo così il caso di Toto Modo è evidente in questo l'esplicitazione letterale in questo caso naturalmente aiutati molto dagli statuti del cinema che sono appunto il trucco i costumi in quel caso naturalmente in Toto Modo era inequivocabile il riferimento appunto ai personaggi della storia molto acuito appunto dal fatto che le immagini parlano di per sé anche se i nomi non erano quelli ma le interpretazioni le immagini le pettinature i costumi le scenografie diciamo così convogliavano veicolavano interpretazioni molto più nette rispetto naturalmente al testo sciasciano nel tempo negli ultimi adattamenti di Sciascia appunto prendiamo per esempio quelli di Gianni Amelio e Emilio Greco tutto questo si fa molto più sfumato naturalmente la riflessione si fa più universale come si diceva poco anzi appunto il rapporto con il testo si fa più stretto ma soprattutto perché c'è una riflessione a monte sul testo stesso e sul valore appunto della letteratura in questo caso appunto il film sottolinea molto questa valenza letteraria dei due questa aspirazione più che altro letteraria dei due protagonisti anzi probabilmente il film ne accentua anche di più la simpatia che lo spettatore ha nei confronti di Vella Vella è un personaggio nel romanzo anche abbastanza arcinio anche abbastanza antipatico alcune volte mentre come si diceva lo statuto iconico di Silvio Orlando ha un suo diciamo si porta dietro naturalmente un portato di simpatia istantanea nei confronti dello spettatore che il film sfrutta che il cinema sfrutta e che naturalmente veicola già la la riflessione verso quella che è la sua la sua ambizione il film è molto più puntato appunto su questa ambizione letteraria di Vella anzi tutta la seconda parte del romanzo diciamo viene molto 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 riassunta e tutta la figura di Di Blasi naturalmente viene portata direttamente verso il suo statuto utopico diciamo così verso la sua la sua la sua utopia rispetto alla sua formazione e alla formazione delle sue idee il film in qualche modo sottolinea proprio questa questa dialettica molto basica se vogliamo è anche molto molto percepibile straordinariamente percepibile dal film cioè quella tra stasi e movimento tutti i personaggi nel film portano stasi tranne Vella e Di Blasi che portano movimento movimento alla storia movimento alla riflessione movimento nello spettatore che naturalmente può 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 operare le proprie riflessioni grazie e proviamo a fare anche delle risposte telegrafiche ci sono delle situazioni molto interessanti che ci vengono proposte c'è una studentessa di nuovo dal liceo che inizia la sua domanda con una citazione l'onorevole promise grandi cose ai minatori toccò comprare una lampada nuova quanto è ancora lontana la fine della condizione di marginalità della Sicilia cioè ci evidentemente ci trasporta ad una dimensione tu parlavi di autonomia qui l'autonomia è vista da un'altra prospettiva quanto è quanto è ancora lontana la fine della condizione di marginalità della Sicilia si chiede è una domanda più politica però tu siciliana sei sì certo poi Sciascia ha scritto a proposito di Sciascia ha scritto la commedia l'onorevole anche la recitazione della controversia liparitana quella ambientata nel primo settecento in Sicilia ma è successivo e poi invece l'onorevole potrei raccontare dei casi di malzanità che sto vivendo questi giorni attraverso mia sorella che vive in Sicilia e diciamo che paradossalmente la Sicilia come una tradizione che è molto viva c'è ancora dice culturale la Sicilia a livello letterario non è più ai margini diciamo dall'unità d'Italia anzi è esplosa perché da Verga in poi sicuramente Verga è uno dei più grandi romanzieri italiani dell'ottocento e del siciliano per non dire oggi addirittura anche De Roberto viene posto addirittura accanto a Verga quindi sono stati autori diciamo appunto Lampedusa quindi non è marginale culturalmente la Sicilia la Sicilia purtroppo per una classe politica che gli stessi scrittori da Pirandello a Sciascia a Camilleri hanno in parte accusato ed è il cosiddetto gattopardismo cioè il fatto sì di essere purtroppo che in qualche misura non sono riusciti a far sì che una mentalità frutto probabilmente di stratificazioni secolari cambiasse modificasse quindi mi rendo conto che quella domanda comporta una risposta difficilissima sicuramente forse la Cassa del Mezzogiorno non ha aiutato non so se la ragazza la studentessa lo sa che cosa è stata la Cassa del Mezzogiorno senti la stessa studentessa si chiede ti chiede ci chiede quanto continua ad essere attuale nell'Italia contemporanea il valore metaforico della Sicilia che forse per Sciascia tale era insomma per Sciascia lo era assolutamente scrive la Sicilia come metafora allora ultimamente ho letto cioè anzi ho riletto perché ho fatto un intervento un'intervista all'interno di un ciclo che facciamo con Novella Bellucci che era stata una mia collega e una mia cara amica Laura Bocci sulle parole delle scrittrici su appunto un'intervista che sarà trasmessa anche in un ciclo che facciamo a Dacia Maraini la cui madre è Topazzi alliata quindi di una famiglia principesca di bagheria cosa che lei aveva voluto rimuovere lo dice lei a un certo punto verso i 40 anni ha recuperato quello che era la sua cioè subito dopo quando sono tornati dal Giappone dal 45 dove il padre era stato era stato in campo di concentramento praticamente lei vive fino a 18 anni tranne due anni a bagheria quindi quando poi scrive Mariano Cria bagheria e tutto parla del suo passato che l'ha rimosso e leggendo parlando con lei leggendo appunto soprattutto le cose che lei ha scritto anche relativamente a bagheria se vai a bagheria vedi che cosa in qualche misura è successo le bellissime ville aristocratiche che lo Stato la Regione sperperando dei soldi non è stata in grado di diciamo come dire restaurare comprare eccetera occupate dalla mafia e patti che sono stati anche fatti potremmo dire tra una massoneria deviata siciliana che anche politica e anche e anche altre istituzioni che hanno dei rappresentanti in ex personaggi della democrazia cristiana insomma dire che certi esperimenti non so pensiamo a quando Forza Italia ebbe tutti i senatori tutti i parlamentari della Sicilia soltanto appunto nella Sicilia non riusciva ad esprimere altro deputato senatore che non fosse di Forza Italia beh insomma che era un laboratorio politico lì era stato evidente quindi in qualche misura la Sicilia ancora ha questa funzione grazie io direi che il tempo diciamo è scorso rapidissimo sotto i nostri i nostri occhi e dobbiamo andare verso la conclusione anzi accingiamoci proprio a concludere e io innanzitutto ringrazio Sciascia per essere esistito per averci dato una quantità di occasione di lettura e di riflessione una lettura che non è mai di evasione ma è una lettura di approfondimento una lettura che pone dei problemi e che suscita domande e che non fornisce risposte perché le risposte dobbiamo trovarle noi stessi e ha sollecitato anche una vasta produzione cinematografica di qualità si diceva prima che forse uno degli autori più filmati non so a parte forse qualche classico che è stato magari messo in forma di film più volte lo stesso testo lo stesso romanzo ma almeno in Italia credo che sia un caso quasi quasi unico in sicuramente negli ultimi 20-30 anni sicuramente è così dopo aver ringraziato Sciascia ringrazio la professoressa Alfonsetti che è tornata con noi appunto in questa circostanza come anche il professor Piero Masciullo che come ha iniziato conclude con noi questa serie di incontri ringrazio tutti gli studenti che sono stati attenti ci hanno anche fornito motivo di riflessione anche da parte loro vi ricordo che a partire dalla conclusione di questo incontro sarà pubblicato il link per la visione del film il consiglio di Egitto che sarà visibile in streaming fino alle ore 13 di domani vi ringrazio vi saluto e alle prossime iniziative del centro Sapienza Crea Nuovo Teatro Ateneo di Sapienza Università di Roma buongiorno a tutti